Simona Ventura. Accetta la romantica proposta di matrimonio a Ballando con le stelle, la reazione dell'ex Bettarini. Ma prima di raccontarti questa vicenda ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella. Grazie! Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda a dicembre, la conduttrice Simona Ventura è stata sorpresa dal suo compagno Giovanni Terzi con una proposta di matrimonio emozionante. Il momento magico è stato condiviso con il pubblico televisivo e la risposta di Simona, un sì entusiasta, ha scatenato un'ondata di gioia. Anche l'ex marito, Stefano Bettarini, ha approvato calorosamente l'evento attraverso un messaggio su Instagram. Stefano Bettarini, padre dei figli di Simona, ha espresso il suo supporto e la sua approvazione per le nozze imminenti della sua ex moglie. Il gesto di condivisione su Instagram dimostra un rapporto pacifico e amichevole tra l'ex coppia. Giovanni Terzi ha reso speciale l'ottava puntata di Ballando con le stelle quando ha fatto la sua proposta a Simona Ventura. Sul palco, di fronte al pubblico e ai genitori di lei, Terzi ha tirato fuori un anello e ha chiesto a Simona di diventare la sua moglie. Simona Ventura, visibilmente emozionata, ha accettato la proposta di matrimonio senza esitazione. Le lacrime di gioia e il sorriso luminoso hanno sottolineato l'intensità del momento, rendendolo indimenticabile per tutti gli spettatori. La coppia ha anche annunciato la data delle nozze, fissata per il 6 luglio. Millie Carlucci, conduttrice del programma, ha espresso la sua felicità per l'evento, definendolo un'emozione bellissima. Mariotto ha scherzosamente offerto di fare da testimone, aggiungendo un tocco di leggerezza al momento commovente. La proposta di matrimonio a Ballando con le stelle ha aggiunto un capitolo romantico alla vita di Simona Ventura e Giovanni Terzi, suggellando il loro amore in modo memorabile. continua a seguire gli aggiornamenti su questa dolce storia iscrivendoti al canale ed attivando la campanella. Alla prossima!